Da giorni ormai si susseguono le segnalazioni dei cittadini per un anomalo concentramento di forze dell'ordine nei pressi della frazione Belcreda di Gambolò. Le fonti ufficiali non si sbottonano, c'è chi parla di normali controlli e chi riferisce che si tratti di un giro di vite contro il fenomeno della prostituzione. Sotto queste versioni però ci sarebbe un fatto di ben altra natura. Secondo i beni informati, infatti, le forze dell'ordine starebbero sorvegliando niente meno che dei preziosi reperti di epoca lungobarda rinvenuti durante i lavori per il metanodotto. Il fatto sarebbe avvenuto a metà della scorsa settimana. I tecnici della SNAM, che sta costruendo il metanodotto cerviniano Dada Mortara durante gli scavi, si sarebbero accorti di qualcosa di strano che affiorava dal terreno. Anche un occhio poco esperto si sarebbe capito immediatamente che si trattava di qualcosa di molto antico. naturalmente, come prevede la prassi, sarebbe partita la segnalazione alla sovrintendenza e il conseguente coinvolgimento delle forze dell'ordine. Le indiscrezioni, anche se ribadiamo che le fonti ufficiali continuano a non fornire conferme, parlano di reperti di epoca lungobarda databili attorno al VII secolo. Qualcosa quindi che avrebbe quasi 1500 anni di storia e che gli scavi per il metanodotto avrebbero riportato alla luce. Che cosa ci potrebbe essere davvero là sotto al momento non è del tutto chiaro. Sempre seguendo le pochissime indiscrezioni che sarebbero filtrate da un contesto molto abbottonato, è probabile che i reperti rinvenuti abbiano a che fare con monumenti funebri e che però non sarebbe esclusa l'ipotesi che potrebbe esserci anche dell'altro. Il luogo del cantiere è presidiato 24 ore su 24 dalle forze dell'ordine che si alternano per garantire una vigilanza costante al sito. Il tutto in attesa che la vicenda possa essere definitivamente chiarita e possano a quel punto arrivare anche delle dichiarazioni ufficiali.